la variante Delta, ci informano di procedere una campagna vaccinale con la massima intensità. Dobbiamo inoltre aiutare questi Paesi a stabilizzarsi e a ritrovare la pace. Sendo interrotto dopo dieci minuti, non certamente per responsabilità di alcuno, salvo che del regolamento, mi induce ad essere sintetico e ad annunciarle che vorrei parlare di tre cose. Vorrei parlare del suo discorso, di lei e di noi. L'Unione Europea si occuperà prima di tutto dei rapporti tra Unione e il strategico europeo, avere una situazione di stabilità o la lotta al terrorismo.